Se siete interessati al noleggio tutti quanti i nostri camper da noleggio verranno trattati con il trattamento ad ozono. Ok, tra qualche minuto sarà pronto. Anche nei veicoli all'aperto, nei nostri usati, li abbiamo sanificati tutti, dal primo all'ultimo. Tutti i nostri veicoli sono stati disinfettati e sono pronti per accogliere i nostri clienti in sicurezza. Abbiamo eseguito la sanificazione in tutti quanti i nostri veicoli esposti, sia i nuovi e sia gli usati. Anche la nostra ufficina è stata sanificata in ogni sua parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.